E' piena crisi per la Civitanovese, sconfitta nuovamente ed uscita fra i fischi e le contestazioni dei propri tifosi a fine gara. A passare senza nemmeno troppe difficoltà al Polisportivo è la Renato Curi-Angolana, che si conferma squadra da trasferta collezionando l'ennesimo risultato positivo. Di Bordoni nel finale di primo tempo e di D'Alessandro con la complicità di un difensore locale, le reti di una partita che ha sancito per i Rosso-Blu una sconfitta meritata e che potrebbe avere pesanti ripercussioni future. Per i Rosso-Blu infatti terza sconfitta in dieci giorni ed ennesima prova in colore, soprattutto sotto il punto di vista caratteriale con la squadra che sembra non rispondere ai comandi. Al via Paciotti cambia il modulo abituale, passando al 4-4-2 con Lazzarini a far coppia con Buonaventura in avanti. Non c'è più Palumbo passato in settimana all'Ebolitana. Serrapica e Paniccià sono sempre out per infortuno, invece è recuperato per la panchina Rachini. Sull'altro versante invece Amaolo, tecnico degli ospiti, forte del successo sulla Samb di domenica scorsa e consapevole della forza dei suoi fuori casa, doveva rinunciare solo a Di Gian Antonio squalificato. A dirigere è pezzuto di Lecce, un migliaio di spettatori circa sugli spalti. Ma passiamo alla cronaca della gara. Al diciassettesimo Renato Curi subito pericolosa. Da uno schema preciso su punizione nasce una palla-gole con l'ex Juve Cammarata che in posizione non del tutto regolare va a cogliere in pieno il palo con la Civitanovese che si salva. Al ventinovesimo ancora ospiti minacciosi, questa volta è D'Alessandro ad avere la palla del vantaggio su cross dalla tre quarti di Mariani. L'attaccante ospita aiutato dalla sventurata uscita dinunziata non trova da pochi passi la porta, gettando all'Urtiche una buona occasione. Al trentottesimo si fa viva finalmente anche la Civitanovese. Buon lavoro di Buonaventura, crosse al centro basso per Lazzarini che però arrivava in ritardo per il tap-in vincente. Al quarantaseiesimo Renato Curi angolana in vantaggio. Bel lavoro sulla destra dell'incontenibile Vellucci che pennellava al centro un cross perfetto per la testa di Bordoni che tutto solo di testa superava annunziata per il vantaggio abruzzese. Si va nella ripresa, si accendono i riflettori e Paciotti ridisegna la Civitanovese passando al 4-3-3 avanzando sulla linea noschese. E al quattordicesimo i rosso-blu sono infatti subito pericolosi e hanno la palla del pari, crosse dalla destra di Bordi al centro per Buonaventura che di testa colpisce il palo. Al trentottesimo arriva però il raddoppio della Renato Curi angolana. Punizione dal limite di D'Alessandro, palla deviata dalla barriera che andava a spiazzare l'incolpevole annunziata toccando prima il palo e finendo poi la sua corsa in fondo al sacco. È notte fonda per la Civitanovese e al quarantaduesimo le cose si complicano con il rosso-blu che rimangono in dieci per l'espulsione di Marotta. Al quarantacinquesimo sui resti di una Civitanovese ormai distrutta la Renato Curi angolana ha la possibilità per chiudere definitivamente l'incontro ma Cammarata incredibilmente sotto misura sciupava una delle più clamorose occasioni. Finale con gli ospiti a festeggiare sotto i propri sostenitori e con la Civitanovese invece contestata dai propri tifosi.